Primo test amichevoli in archivio per il Barletta 1922 che nella giornata di ieri ha superato per 13 a 0 una rappresentativa Juniores di Bitonto. In evidenza la coppia morra di Rito nel tabellino rispettivamente con 4 e 3 reti seguiti dai centri di Varsi, Grazioso Aprile e degli Juniores, Padaro, Guadagno e Cafagna. Occasione per Mr Farina di provare quanto prodotto nelle prime settimane di lavoro e di poter ruotare su tutti gli effettivi a disposizione. Il tecnico campano è parso soddisfatto del cammino intrapreso con una rosa di qualità e quantità. Quando si è a disposizione dei giocatori così altre volte ho sempre adottato almeno due sistemi di gioco anche perché oggi il calcio ha portato un po' di elasticità. L'allenatore deve essere abbastanza elastico nel cambiare al momento opportuno anche perché uno cerca sempre di giocare di principio. Noi ci stiamo allenando su due sistemi di gioco però non rinunciamo a nessun modo di giocare. Ho quattro punti importanti e qualche partita le metterò tutte e quattro in campo. Quindi voglio dire c'è bisogno di avere una certa elasticità e permettere che la squadra capisca i principi importanti e sia sempre equilibrata. Questa è la cosa più importante. Mino di un mese dall'inizio ufficiale della nuova stagione con start della Coppa previsto per il 20 settembre. Un format, quello nuovo per il campionato di eccellenza, che obbliga le squadre a rivedere i propri piani per disputare un campionato di vertice. Nonostante l'importante cambiamento in corso, con la composizione di due nuovi gironi, il Barletta si farà trovare comunque pronto. Il campionato è molto particolare anche perché chi vince il girono non ha vinto ancora niente da quello che mi risulta. Quindi si dovrà vincere due volte. Il girono innanzitutto è difficilissimo perché ci saranno delle squadre attrezzate e poi l'eventuale spareggio. Io ero venuto francamente per fare un altro tipo di campionato, però ci adegueremo anche a questo. Il calcio sta cambiando, c'è stato il Covid, ci dobbiamo adeguare tutti quanti. Questo tipo di regolamento favorisce le squadre di medio-bassa classifica perché favorisce un po' le squadre che lottano per il vertice, anche perché da quello che risulta non ci saranno i play-off per le seconde e le terze, il che è un po' duro perché le squadre che si mettono 8-9 punti indietro, la terza, la quarta, la quinta, potrebbero rinunciare a giocare a un certo punto. Speriamo che i play-off hanno favorito questi giochi fino all'ultima giornata. Speriamo che vengano introdotte anche per favorire tutte le squadre.